Risalita dei casi Covid, possibili chiusure e ripartenza scolastica. Sono questi alcuni degli argomenti al centro della nuova diretta del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Troppi, secondo il Governatore, i contagi che quotidianamente vengono registrati su tutto il territorio regionale. De Luca in particolare confronta i dati della scorsa estate, quando i casi erano molto meno, e lamenta la presenza di molti ragazzi senza la protezione individuale, nonostante in Regione ci sia ancora l'obbligo. Su 7.600 tamponi abbiamo 226 positivi. È un dato preoccupante. Se noi avessimo un numero di positivi rapportato alla popolazione della Campania su quella italiana, dovremmo avere 140 positivi. Ne abbiamo 226. Di questi 226 positivi, quasi il 3% di contagiosità, abbiamo 26 sintomatici lievi, sui 226 asintomatici. Che cosa vuol dire questo dato? Per un verso è tranquillizzante. Cioè sui 226, 126 non hanno sintomi, ma sono positivi, quindi contagiano. E averli individuati è frutto di un lavoro attento, di screening che viene fatto anche rispetto ai positivi e ai contatti avuti ai positivi. Ma questo vuol dire che abbiamo migliaia di nostri concittadini che non hanno sintomi, ma sono positivi al Covid. E quindi contagiano quelli che entrano in contatto con loro, oltre che i propri familiari. Allora, questo era prevedibile. Però se voi pensiate che siamo a luglio e abbiamo 226 positivi, quando a luglio dello scorso anno non avevamo praticamente nessun positivo, vi rendete conto del pericolo che stiamo correndo. Perché è vero che abbiamo un numero elevato di persone vaccinate, ma è vero anche che abbiamo un 15% sopra i 60 anni che non ha voluto vaccinarsi, e abbiamo le varianti. Quindi abbiamo un dato positivo in più rispetto a un anno fa. Molti più vaccinati. Anzi, i vaccinati perché non li avevamo un anno fa. Ma un dato preoccupante che è rappresentato dalla variante Delta, che ha una capacità di contagio, un'aggressività davvero grandissima.